Sì, è un problema che questo territorio ha da tanti anni e la GIZS ha presentato e abbiamo condiviso un progetto davvero interessante che da una parte riguarda la tutela e la gestione degli animali, ma dall'altra svolgerà un ruolo di vero e proprio attrattore turistico perché è un progetto che prevede tutta una serie di interventi, quindi con spazi per bambini, spazi per esempio per la pet therapy, spazi anche di tipo recettivo, insomma veramente un bellissimo progetto, sorgerà in contrada gattia in collegamento con la pista di lungo fiume, per cui sarà raggiungibile anche in bicicletta, è un progetto a breve termine perché abbiamo già richiesto da Regione un finanziamento per questo progetto e stiamo lavorando anche per intervento a livello europeo, una cosa davvero interessante che sarà un ulteriore fiora all'occhiello per questo territorio, un progetto unico a livello nazionale ma direi anche a livello europeo. Oltre a rivitalizzare l'area, ha spiegato il sindaco Maurizio Brucchi, il progetto ha anche lo scopo di integrare il canile all'interno del tessuto sociale della città, mentre le nuove piste ciclopedonali che metteranno in rete una serie di attività come negozi e ristoranti attraverso dei percorsi ciclabili protetti da realizzare con biciclette a pedalata assistita saranno realizzate in via sperimentale all'interno del parco fluviale.